Sono arrivate da tutta la penisola in Val di Chiana le migliori giocatrici, tra cui le vincitrici dello Scudetto nel 2023 ed alcune delle atlete che hanno vestito la maglia della nazionale alle ultime edizioni dei campionati mondiali ed europei. Domenica 2 giugno è stato infatti il vociodomo comunale di Tavarnelle ad ospitare il ventunesimo trofeo Città di Cortona Memorial Enzo Basanieri, gara nazionale, individuale e femminile organizzata dall'ASD Cortona Bocce. Le giocatrici, provenienti prevalentemente dal centro-sud Italia, si sono affrontate con gironi eliminatori dislocati nei bocciodromi di Arezzo, Chiusi e Chianciano, per poi proseguire con le fasi finali nel pomeriggio presso la sede della società organizzatrice, a dirigere la manifestazione l'arbitro nazionale Marco Rossi. A primeggiare è stata Chiara Gasperini, giovane rappresentante della Lucrezia, che si è mostrata come bestia nera per la Cortona Bocce, avendo battuto in semifinale Giulia Pierozzi e in finale Rechere Maggio, entrambe appunto tesserate per il sodalizio cortonese. A completare il podio infine Lorita Leonori delle Bocce Arezzo.